Ma cos'hai da essere così arrabbiato, Motel? Perché fai il muso? Ah, ma se il problema è questo, se vuoi conoscere la tua genealogia, ti posso spiegare io il come e il perché. Tuo padre ingrassa le ruote dei vagoni e tua madre ruba il pesce al mercato. Tuo fratello fa il gioco delle tre carte, tua sorella vive con un cosacco, tuo zio è un perdigiorno e tua zia un ambulante. E tuo fratello sta in prigione e tua sorella, tuo nonno era un macellaio, tua nonna un'inserviente in un bagno pubblico. E per quanto ti riguarda, sei un bastardo, tirato fuori da un orfanotrofio. Musica 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501